22 marzo 2012, sono con una telecamera improvvisata, più che una telecamera è una webcam che registra, sono sulla strada comunale franata a novembre, stavolta qualcuno mi aveva detto che era stato montato il cantiere, quindi io pensavo di trovare un qualcosa che mi indicasse l'inizio dei lavori, ma se non vado errato, onestamente non vedo nessun cantiere, c'è la strada che dall'altra parte qualche settimana fa l'avevo fotografato, onestamente non so che immagini vedete, perché è la prima volta che faccio un video con questa piccola webcam che registra, quindi non so neanche le inquadrature quali siano di preciso, ve l'ho molto l'intuito e vedete c'è ancora l'immensa frana, mamma mia, è davvero potente quest'acqua che si è ripresa, vedete l'acqua scorre, siamo a marzo, non piove da giorni, insomma c'è anche un'uccelletta ancora bello pieno, bello in forma che fa il suo percorso, vedete poi si mette nella valle, è davvero difficile fermare l'acqua quando vuole dipendersi il suo corso, va bene, io l'avevo pronosticato che ci sarebbe voluto giugno, mi è stato detto che da quando inizieranno i lavori ci farà più o meno un mesetto, quindi speriamo che inizieranno per questo marzo, siamo al 22, così per maggio va, magari anche prima di quanto avevo detto, ma non so se crederci, vedremo, questa è la situazione ad oggi, questa bella valle tutta verde, sbocciante per la primavera, e quindi vedremo, non so se è riuscito a sentire il rumore dell'acqua, per ora è tutto, al prossimo video dal vostro Byros Grazie Grazie Grazie